Lei prima a margine del Consiglio della città metropolitana ha annunciato che a mercoledì inizia gli incontri istituzionali per la questione del debito. Ci può dire chi sono i primi? Sono diversi incontri, poi magari ne parliamo dopo gli incontri perché sono incontri delicati a livelli anche abbastanza importanti, alcuni incontri non sono stati ancora da me sollecitati perché ovvio sanno tutti che ci sono consultazioni molto delicate nel nostro paese, avrei voluto chiamare il Presidente della Repubblica, lo farò dopo questi giorni, però per il resto noi andiamo avanti. Quindi certo in questa partita non è una variabile indifferente capire se ci sarà un governo o non ci sarà un governo, le forze parlamentari ci sono, l'impressione che si ha che è tutto fermo però, perciò questo incontro di mercoledì mi consentirà anche di cominciare a comprendere che tipo di proposta può venire dal Parlamento. Credo che per mercoledì sapremo anche se ci saranno prospettive di un governo politico oppure se andrà a votare a breve, questo anche avrà un peso, ma avrà un peso sull'Italia, non solo su Napoli. Ci aspettiamo un attimo, vediamo se stanno incontrando le forze politiche, poi lo commenteremo, che vi devo dire. Mi chiede una valutazione da sindaco? Certo da sindaco? Potrebbe essere utile chiamare Lanci e vedere se in questo voto politico 12 sindaci guidati da un sindaco o di una sindaca del partito che ha preso la maggioranza dei voti sono in grado di presentare un governo al Paese. Io penso che sarebbe il modo migliore in questo momento di difficoltà per unire il Paese nelle diversità, ricostruire un'Italia coesa, perché vi sembrerà strano. E questa è una notizia, probabilmente, che i sindaci tra di loro vanno molto 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 d'accordo, anche quando appartengono ai fronti politici più lontani. Perché sono quelli che non stanno due mesi solamente nei talk show televisivi, ma stanno ogni giorno in mezzo alla strada, tra i problemi, tra le ansie, tra i sogni, i desideri, le sofferenze e le passioni. Quindi, chi lo sa, che non potrebbe essere, lo dico come una battuta, ma se veramente non c'è un governo, probabilmente, presentare i sindaci eletti direttamente dal popolo, da sud al nord del nostro Paese, sono sicuro che in un mese faremmo un programma che rilancerebbe il Paese in dieci giorni. E forse prendere anche una fiducia molto allargata per poi andare a votare e consentire, come dire, ai partiti legittimamente, fatta un'altra legge elettorale, di andare ad avere una stabilità politica. Se si vota l'8 luglio, diciamocelo chiaramente, il che è una prospettiva realistica, perché se non c'è una maggioranza politica, ma si rischia di trovarci punte da capo. E attenzione che l'Italia è un Paese dove ci sono anche poteri forti e poteri criminali. Un voto politico troppo lungo non è proprio una notizia che dà ossigeno democratico al nostro Paese. Se può servire, noi ci siamo.